Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao Vitamina Oggi vi parlo di Stenum Questo ovviamente è il catalogo nuovo E questo è il pacco Sì, perché ho ordinato alcune cose Che vi volevo far vedere anche a voi Non è che ho ordinato chissà che cosa Vabbè, scusate i capelli Oggi sono Mossi per i fatti suoi E mi è arrivato Questo è il pacco E' uno di quelli piccoli, non ha importanza Però, perché ho ordinato Alcune cose che mi servivano A me, per questo Perché se no, non avevo ordinato Anche se nel catalogo che vi ho fatto vedere poco fa Che poi vi girerò però Ad aprile, perché comunque inizierei 4 aprile Ci sono delle cose Molto più economiche rispetto al catalogo Che ho preso io, infatti questo è il pacco del ciclo 4 Adesso siamo sul ciclo 5 Comunque a breve vi metterò anche il catalogo Solo che Non mi hanno mandato quello cartaceo Del ciclo 5 Mi hanno messo quello del ciclo 6 E quindi quello di aprile Però ve lo faccio lo stesso tramite La registrazione dello schermo Che almeno vediamo Le offerte Le novità che ci sono Invece qui ho preso qualcosina per casa Che mi serviva Vi faccio vedere Quindi non è un gran che ho ordinato Solo per uso personale Cioè per me stessa Allora, questo catalogo Ve lo farò vedere direttamente ad aprile Come andate già ci sono C'è qualcosa di Il sgrassatore Vabbè Come al solito Fattura Quella non manca mai Perché dobbiamo pagare Allora vi faccio vedere i primi prodotti Innanzitutto ho preso il pre-wash Che questo è uno smacchiatore pre-lavaggio Che questo si utilizza in lavatrice Voi dite come mai a mano No, perché certe volte quando voi lo mettete Tipo che sapete qualche maglietta con qualche macchia Glielo spruzzate Anche se agisce A me fagli fare il lavaggio in lavatrice Perché a mano A volte rimane l'alone Del prodotto che tu hai spruzzato Non so perché A me capita così Anche se lo sciacquo bene Infatti C'è scritto sempre di metterlo in lavatrice Comunque basta che voi spruzzate qualsiasi macchia Perché lui è micidiale Lui l'elimina Proprio niente È il top Mi è costato 5,50 Senza il trailer Quindi senza lo spruzzino Però per fortuna Io ce l'ho di riserva Di uno dei prodotti che ho preso tempo fa Io con questo mi ci trovo molto bene Soprattutto quando in offerta lo prendo Era 5,50 Sapevo che io già a casa avevo il trigger Quindi quello nebulizzatore Per intenderci Quindi sono andata sicura Perché ora lo trovate Se non è rotto e 50 Non lo so Comunque Poi lo vediamo insieme Mi piace troppo Di solito uso l'omino bianco come smacchiatore Però Quando ho proprio delle macchie ostinate Proprio che non si tolgono Lui è il top proprio E vi faccio vedere anche il resto Mi sono presa due sgrassatori Questi che sapete che sono sempre due in uno Ne ho presi due Perché a casa mia Niente Li utilizziamo per tutto Anche perché questo Lo potete utilizzare come smacchiatore Quindi se c'è qualche macchia Qualcosa che dovete togliere E non avete lo smacchiatore a portata di mano Lui fa quello che deve fare Infatti questo è un due in uno Sia uno sgrassatore per staviglie Ma poi ve lo potete anche diluire Con l'acqua E potete fare uno sgrassatore Potete metterlo tranquillamente nel nebulizzatore E vi fate uno sgrassatore spray Che potete utilizzare per tutto Cioè per tutte le superfici Penso tranne il legno Non mi ricordo Però Vi dirò Non lo dice No, no Non lo dice Però è meglio provare sempre In qualche angolo In qualche cosa Se dovete provarlo sul legno Non si sa mai meglio evitare Però Per qualsiasi cosa Lui è uno sgrassatore a tutti gli effetti Proprio 100% Secondo me Da avere A casa Poi c'era in offerta Il Tritit Ce ne erano tre 21 euro in 90 Questo cos'è? Questo è uno tipo Dei tanti Anche sgrassatori Per dire Perché lo utilizzo anche come sgrassatore Però Per le pulizie più pesanti Come pulire i davanzali Pulire le ballate Diciamo del balcone Quella insomma Dove c'è il balcone Delle finestre Le sgrassatori Potete pulire Serrandi Auto Cerchioni delle auto Tutto C'è tutte quelle pulizie pesanti Che magari Non si possono fare Con alcuni Detersivi semplici Lui Lo fa Ma è Questo Vabbè Non si può Mi è capitato La bottiglia disettata Ha una profumazione bella Mi piace troppo Niente Qui Dice che lo potete utilizzare Anche tipo per il giardino Come vedete Ci sono anche qui Anche per le tute fatte di grasso Quindi lo potete utilizzare Sia puro Quindi direttamente Sulle macchie Che ne so Qualche tuta Macchiata di vernice O di auto Di grasso Questo intendo dire Se c'è una macchia localizzata Lo mettete lì Ma potete aggiungerlo anche Due misurini Di questo prodotto Del tappo Come additivo In lavatrice Quindi tranquillamente Potete utilizzarlo Insomma Il vostro Detersivo Abituale Niente Questo è finito Tutto il video Sì mi dispiace Troppo corto Però ho preso Delle cose Che mi servivano Proprio a me Perché Quindi vi saluto Appunto Vi stavo dicendo Ho preso Delle cose Per me Perché mi servivano Queste cose Naturalmente Non so Se farò un ordine Del catalogo nuovo Che adesso Poi vi metterò anche Oppure lo farò Direttamente ad aprile Perché mi sembra Che ci sono Delle cose Troppo belle Cioè ci sono Delle offerte Molto più Interessanti Rispetto al catalogo Di adesso Quindi del 5-5 Intendo dire Va bene Io vi saluto Vi mando Un grosso bacio E niente Chi si vuole scrivere Anche in seno Vi lascio anche Il link Nell'info box Così date un'occhiata Al catalogo E niente Ciao